Album Bianco, un disco che è un titolo che ha fatto discutere del quale avete parlato e soprattutto letto e rilasciato molte dichiarazioni contrastanti, io una mia versione ce l'ho ve la dico dopo, ma subito, che magari è buona anche per noi, la usiamo, ti voglio un mucchio di bene con Giorgia il pennarello che scrive Bianco, vedi, tu sei un ragazzo attento, però già quello era un riferimento al passato, adesso non stiamo qui a rinvagare troppo però c'era un imbianchino nelle fasi di realizzazione del nostro primo disco in studio che aveva lanciato questa moda del bianco, faccio tutto bianco, però adesso la vostra versione, il bianco alla fine è un nuovo colore che ci siamo inventati, scusami che abbiamo scoperto, che abbiamo scoperto, ma in effetti non è proprio bianco, è bianco, in effetti la copertina è così, allora per non fare come al solito, adesso ci sono i colori, che sono quel colore ma un'altra cosa, tipo il blu ma è blu cobalto, il rosa ma è un rosa confetto, no è un rosa antico, poi c'è carta d'azzucro, così, bianco, perché è un nuovo colore. Sì che poi hai detto bene, ci sono dei colori che in realtà per tanti anni sono stati accorpati ma erroneamente, per esempio mia nonna mi ha sempre parlato del marron, che non è il marrone, è un altro colore, cioè se tu hai i pantaloni di velluto, quelli che si comprava al mercato, alla costa larga, quelli lì sono marron, se li cerchi marroni non ci sono, è proprio una tinta speciale, oppure il carta d'azzucro ragazzi, il carta d'azzucro che colore è? Il carta d'azzucro è un colore a sé stante, il bianco abbiamo scoperto un po' che è il nostro colore, perché lo diciamo, siamo un gruppo, pur essendo un gruppo rock, che quindi avrebbero dovuto avere stuoli di ragazzi, in realtà siamo andati molto in bianco nella nostra carriera, direi che forse il colore che più ci si adatta, si adatta al nostro animo di artisti, di artisti un po' così variegati e tinti. Come il Wide Album dei Beatles. Esatto, vedo che sei pronta, vedo che sei pronta e attenta, comunque, parliamoci chiaramente, l'album bianco fondamentalmente perché è un titolo che ci fa ridere e non è che ci siano dietro poi tutti questi pensieri, però su questa cosa poi si innesta l'eterno e bellissimo gioco di fornire versioni differenti che i giornalisti trascrivono e quindi si crea il caos. Com'è il vostro rapporto con il web in generale, con il www, quello che definite www? Ma è buono, è buono, ci siamo accorti negli anni che il www è sulla bocca di tutti, no? Perché ora non si muove un passo senza internet, sempre cosa dice la rete, perché sulla rete è accaduto questo, poi dopo scopri che in realtà chi usa internet in realtà è una percentuale piuttosto piccola ancora, no? Del numero complessivo di cittadini, per cui perché la rete deve avere tutta questa importanza e va bene. Ma poi soprattutto ci siamo accorti che fatto salvo questo fatto, cioè che tutti parlano di internet e che internet c'è un'importanza, canzoni che parlano di internet in realtà ce ne sono poche, a noi ci viene in mente solo www, mi piaci tu, non so se ve ne vengono in mente altre. È un fatto veramente strano e noi di Radio Storietese siamo molto attenti ai fatti strani, per cui ci siamo detti bisogna comporre canzoni che parlano di internet. Tutti parlano male di internet, no? Perché si sente sempre dire che internet è la colpevole di orrendi crimini, non so, non si vendono i dischi per colpa di internet, per dire no? che è anche un ottimo alibi perché in realtà non si vendono dischi perché fanno schifo. Prollano magari i sondaggi online perché ci sono gli hacker del PD, sono famosissimi, pieno di hacker del PD, non vendono più i DVD porno perché c'è YouTube, c'è YouTube, eccetera. E la rete, colpa della rete, eccetera eccetera. Allora noi ci siamo detti, no cari amici, non siamo d'accordo. Secondo noi internet invece... Parlate da uomini feriti, scusa per completare la frase. Perché internet invece è fonte di opportunità continue e secondo noi, adesso non voglio stare due ore, però dico, secondo noi l'opportunità principe, cioè quella che rappresenta tutte le opportunità offerte da internet è proprio enlarge your penis. Quando ti arriva quella mail che ti propone questa cosa, che è un'opportunità chiaramente per lui, ma anche per lei, anzi forse soprattutto molto democratico, ma ce ne sono anche altre, tutte quelle lettere, quelle offerte che arrivano da queste ragazze dell'est Europa, che sono rimaste senza legna, la stufa, comprami una stufa e mandamela, oppure cerco affetto, relazioni interesse, cioè tutti istintivamente e penso, oddio mi ha mandato la cosa eccetera, poi c'è quella, ma invece sono delle opportunità da prendere al volo! Ma non solo, non solo, vi dico cosa mi è capitato, grazie veramente a una persona in gamba, che probabilmente lavora nella mia banca, mi ha mandato una mail, la tua giornata dicendo guardi che qualcuno ha entrato in possesso del suo numero, mi rimetta qua tutti i suoi dati, la sua password che sistemo tutto. Io l'ho fatto, meno male che c'è bisogno, per dirvelo un'altra, addirittura mi avevano detto che qualcuno mi aveva probabilmente creato dei casini nel mio conto post e pay che non ho, allora ho pensato, aspetta, vado ad aprirlo, e così poi, capito, cioè ci sono delle opportunità infatti vanno colte. Ma infatti vanno colte.